Signori e signori, buona visione! Signori e signori, buona visione! Il partnership cartacee Zappi, la guida gratuita alla tv, eccola qui che la vedete, potete trovarla proprio a www.zappi.it E la seconda, immediatamente, Metromorfosi, che potete trovare nei migliori locali di Roma, naturalmente, ma potete anche scaricarvela sul sito di metromorfosi.com Immediatamente, puntata specialissima, corro sempre di corsa perché è puntata speciale dedicata al PV, sapete che Iceberg News è in giuria ufficiale del PV, del premio internazionale italiano, naturalmente del videoclip indipendente e partiamo immediatamente con il premio al miglior videoclip premiato, Sound for Said, S-Man. Vai! Allerge! 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 If we separate yourself It's a fucking world It's an horrible, miserable world And we don't you ever think It's so pathetic It's so pathetic It's a fucking world It's an horrible, miserable world And without you, everything is so pathetic So pathetic And without you, everything is so pathetic It's a fucking world It's a fucking world Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.